Stiamo andando ad ascoltare un coro gospel al Hampton Coliseum. Siamo gli unici bianchi finora, guardate, sono tutti afroamerican giustamente, e poi io, Elio, Luca e Rachele. E la signora fantastica con le scarpette, con le scarpe in mano. 13? Guarda lì. Ragazzi, però, una volta di te dovete trovare qualche bianco, così no? Ne abbiamo trovati due. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!